A Teramo incontro di lavoro in provincia tra il neo governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio e i sindaci del cratere sismico per un primo report sullo stato di avanzamento sui lavori di ricostruzione e il lavoro che il governo sta portando avanti sul decreto post-sisma perché occorrono ulteriori risorse per velocizzare l'iter un confronto a porte chiuse con tutti i sindaci, presto sarà anche scelto il nuovo direttore dell'ufficio sisma Sono qui apposta per ascoltarli perché so bene che sono i sindaci le persone che meglio di altri sanno che cosa è necessario fare come si può fare meglio e quindi sono venuto per parlare con loro, una riunione di lavoro per ascoltare e capire meglio che cosa dobbiamo fare per riportare le persone dentro le case nel frattempo ho ieri firmato l'ordinanza, la delibera per l'acquisizione di nuovi alloggi che andranno all'edilizia residenziale e che permetteranno a qualche centinaio di famiglie di poter rientrare nelle case, in case vere Sull'OSR? È pubblicato il bando per dare stabilità all'ufficio e scegliere un direttore che possa con continuità occuparsi della ricostruzione Una situazione su cui il sindaco di Terramo ha chiesto un cambio di pasto sulla ricostruzione Chiederemo ovviamente al presidente in primo luogo una stretta e forte collaborazione istituzionale con i territori Anche per far sentire una voce unica, comune a livello governativo e parlamentare su quelle che sono le esigenze del territorio stesso Io direi più in generale del cratere sismico del centro Italia Non può continuare a subire un rischio di una sottovalutazione di cui stiamo pagando le conseguenze Che si faccia tesoro dei gravi errori del passato ma anche di quelli che sono gli aspetti positivi che sono emersi negli ultimi mesi della guida dell'OSR E poi è importante che si rappresentino una serie di esigenze sulla ricostruzione privata Anche con il trasferimento ai comuni degli esiti per le pratiche B e lo sblocco della ricostruzione pubblica che praticamente ferma Insomma oggi si inizia questo nuovo percorso nel tavolo istituzionale Ripeto, che sia veramente un voltare pagina non solo formale ma vero, reale e sostanziale Grazie 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 Grazie